Parleremo naturalmente di questo congresso, sconvegno sulle famiglie e saluto anche Nicolò Trevisan, psichiatra e psicoterapeuta il tema di questa settimana TG3 è stato quello delle droghe lui ha scritto questo libro, Dipendenza da sostanze, un mondo senza sogni e avremo modo di parlare anche di questo adesso con Tinda Voglio sentire anche Nicolò Trevisan, psichiatra e psicoterapeuta quindi diciamo con i problemi delle famiglie immagino abbia a che fare perché poi ecco siccome sono tanti veramente i problemi le questioni che una famiglia deve affrontare spesso lasciata sola, anche su argomenti delicati quelli che sono inerenti alla sua professione ma ce ne sono tanti altri ecco come sempre rimangono sullo sfondo ad essere generosi perché ciò che emerge è una polemica violenta su temi come la 194, sulle coppie gay e tutto il resto viene dimenticato Beh sì, questi sono temi su cui è importante avere delle idee estremamente chiare cioè massima allergia rispetto a questo tipo di impostazioni ideologiche molto importante invece è il tema della nascita di un bambino all'interno di una famiglia che è un momento importantissimo al punto di vista psichico un momento molto complesso sia prima che dopo e qui ci vuole appunto una impostazione di pensiero che valorizza questo evento come frutto di un rapporto affettivo di una sintonia del rapporto uomo-donna indipendentemente dalla famiglia indipendentemente dall'organizzazione poi che qualche modo dei rapporti se viene formalizzata o meno l'importante è che il bambino nasca all'interno di un contesto relazionale valido affettivo emotivamente coinvolgente perché poi ha un impegno crescere un figlio il primo anno di vita di un essere umano è qualcosa di estremamente coinvolgente sia per una madre che per un padre ecco sarebbe interessante che ci si concentrassi più su questo tema in questa settimana il TC3 si è occupato di droghi tossicodipendenze noi il libro che vi segnaliamo da leggere è questo interessante dipendenze da sostanze un mondo senza sogni Nicolò Trevisan è tra gli autori in due minuti Trevisan c'è una novità nel nostro paese che emerge dal punto di vista della dipendenza da sostanze cioè quali sono le questioni adesso più nuove più preoccupanti beh diciamo questo libro che ho scritto insieme alle colleghe Cinzia Fazio Silvia Leongardelli Emanuela Lucarini affronta affronta questa emergenza legata a un uso endemico delle sostanze che può trasformarsi in dipendenza ma propone e questa è la novità la cura della dipendenza attraverso la psicoterapia perché le sostanze colmano un vuoto di affetti che si traduce in un vuoto di rapporti questo vuoto in qualche modo che la droga colma e che copre i sintomi psichici può essere affrontato attraverso in qualche modo l'impostazione offerta dalla teoria della nascita di Massimo Fagioli che psichiatra tra l'altro amico di Linea Notte che in qualche modo ha offerto quegli strumenti per capire la la psicopatologia le dinamiche profonde legate alla malattia mentale ma anche quelle dinamiche che permettono la cura e la ricreazione della mente sana al momento della nascita come al momento della nascita ecco perché questo libro è importante ed è importante che lo leggano i giovani gli studenti le insegnanti in qualche modo i colleghi gli artisti perché sappiamo che il mondo artistico in qualche modo è circondato da dalla cultura della droga e anche tutti i colleghi perché questa idea che la psicopaterapia avendo fatto l'appello a tutti quelli ai quali questo libro può interessare mi sembra il modo migliore perché ci sono naturalmente tante cose da aggiungere ma insomma leggetelo leggetelo è molto grazie